Si è tenuta ieri presso l'azienda Flor Italia la quarta edizione della Notte Bianca della Ceramica. L'evento, in cui si sono incrociate musica, arte ed economia, ha visto la partecipazione degli specialisti del settore casa, incontratisi presso lo showroom ed hub dell'azienda ceramica nella zona industriale di Bellizzi per creare sinergie positive. La Notte Bianca è stata anche l'occasione per festeggiare i 15 anni dell'azienda. Una storia che è cominciata dove? È cominciata nel 2004 appunto quando io e mio fratello Fabio ci siamo seduti a tavolino, io ho deciso di lasciare gli uffici della banca dove lavoravo in quel momento e abbiamo deciso di aprire, di iniziare questa grande avventura che ci ha portato poi in giro per il mondo e se oggi penso che siamo partiti 15 anni fa in un seminterrato qui a Bellizzi, la cosa mi fa comunque un po' specie insomma perché comunque abbiamo fatto qualche piccolo passo avanti, devo dire la verità. Invece per il futuro che cosa immagina? Per i prossimi 15 anni? Per i prossimi 15 anni? Beh oggi si naviga un po' a vista nel senso che abbiamo dei programmi sicuramente di lungo periodo ma abbiamo delle aspettative anche nell'immediato e stiamo ottenendo veramente quest'anno dall'inizio del 2019 dei grossi risultati non solo qui nel territorio e nel sud Italia ma soprattutto all'estero. Siamo entrati per la prima volta, cosa che mi sembrava impossibile, un sogno, siamo entrati lavorando in Russia e addirittura in Siberia, una regione lontanissima. Mentre anni fa quando abbiamo iniziato acquistavamo dalla Cina, oggi siamo noi che vendiamo le piastrelle in Cina e negli altri paesi dell'estremo Oriente. Abbiamo rafforzato la nostra presenza nel mercato americano e stiamo diventando una realtà nei centri di grossa distribuzione sia nelle catene che nei centri dei vari stati nel Nord America. Sono dei risultati di cui siamo ampiamente soddisfatti, rimaniamo con i piedi per terra perché le difficoltà sono sempre tante. Però sappiamo che quando lavori con serietà, lavori con intelligenza, cerchi di mettere amore, passione in quello che fai e dai soprattutto un servizio, lo fai respirare e sentire a chi sta dall'altra parte del mondo, questa cosa prima o poi ti ripaga. Qual è il segreto per allargare il proprio raggio su mercati che si pensavano irraggiungibili? Lei prima citava la Siberia e ce ne sono tanti altri nel mondo. C'è un segreto o è sempre e solo la qualità che paga? Non sempre il prodotto e il prezzo bastano da soli. Bisogna entrare nella mentalità di chi è dall'altra parte, capire che cosa cerca realmente. A volte non cercano un prodotto o soltanto un prodotto, ma in realtà cercano il servizio, cercano un riconoscimento, cercano la disponibilità, non dico totale, ma tanta disponibilità da parte di chi fa un certo tipo di lavoro. Anche perché alla fine noi basiamo tutto sul rapporto fiduciario tra le due parti. Quindi se questo lo riusciamo a costruire, quello che prevale spesso è il rapporto personale e interpersonale tra le parti.